Continuiamo, aspetta, ecco fatto Mmm, sei sopravvissuto, complimenti, bravo Sei sopravvissuto per morire alla fine Allora, più che altro stavo pensando Togliamo Game Boy Horror e mettiamo la gran forza Mettiamo la gran forza perché Così veramente sciottiamo con un colpo e ci becchiamo davvero i due punti esperienze da tutti Ok, qua c'è Per quanto, vabbè Volevo controllare quanti ne avevo, ma Sinceramente, ormai Sti spine, tra l'altro, non le vedevamo Quale dei due ho preso? Kamek, ok Ultra sciroppi Uh, due di fila Vorrei però vedere cosa mi droppa Kamek Kamek, sono curioso Aspetta, rimettiamo Game Boy Vediamo cosa ci droppa Dicevo, queste spine avevo detto che non le avremmo più viste All'inizio del gioco Invece, eccole qua Puff Ezzico Occhi tocchi Di cosa mi preoccupo ormai Ok Se Kamek ci ha dato un ultra sciroppo uccidendolo normalmente Cosa ci darà Con il Con il Game Boy Horror Vediamolo subito Hm, sei sopravvissuto Complimenti Due ultra sciroppi Quindi probabilmente Anche il Ballet Bill ci dà l'ultra sciroppo Potrebbe essere Non ci giurerei Ma potrebbe essere Uno Diamo gli una Martell Anzi Dai una fulminata Ah, barabam Centomila di esperie Oh, santo Dio Da bambino una roba del genere Non l'avrei mai neanche creduta possibile Credetemi che io ci ho messo Da bambino Prima volta che giocavo Un sacco di tempo per fare il boss finale Uno perché Vabbè, morivo Ma Due O meglio, la seconda fase del boss finale Perché Due Veramente Non ero preparato Non avevo Hm Come posso dire Le statistiche che avevo adesso Io puntavo a potenziare Tutto ciò che potesse essere utile Per me Al tempo Mentre da bambino potenziare Quindi Vedi che ne so I punti attacco Dici L'attacco è forte Bisogna aumentarlo Come con Pokémon Quanti di voi pensavano che L'attacco E l'attacco speciale Andassero assieme Ovvero che più attacco avevi E più attacco speciale avevi Più danno facevano Tutti i tipi di mosse Sarò stato stupido io ma Io lo pensavo Allora Allora Aia Allora Vai Mmm Sbaglio io i tempismi Allora Fermo Vai 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 Chi è che sei tu Morton Avrei dovuto mettere la gran forza Non fa niente No che scemo Ho sbagliato Non sbagliamo Quell'attacco da un sacco Uno Due Tre Quattro Cinque Porca puttana Pugno Bowser Questo però so che è un oggetto che ottieni di base Ok E si va avanti